Ok, adesso faccio dei pancake per i nipotini. Oh, cosa? Il telefono deve rispondere. Mike, sei qui. Dai, su, disegniamo qualcosa. Non ha bello il suo pancake. Oh, io ho un'idea. Ok, faccio un bel disegnetto. Faccio un incordo. Piacerà alla nonna. Oh, che carino che... Come è, Mike? Oh, cosa? No, il tuo pancake non è bello. Ok, aggiungiamo dei dettagli. Ok, così. È più bello. No, Mike, dammi. Hai rovinato tutto. Io ho rovinato. Ecco, prendi. Oh, cosa? Anche io posso fare così. Oh, no, ai miei occhi. Ma cosa avete fatto? Non si può fare così. Ci sarà una sfida. Guardate, questo è il cagnonino Millie. Adesso disegnerete il cagnolito. Chi lo disegna meglio se lo aggiungi. Ok, vostro tempo è partito. Ok, dai su, Mike, sei pronto? Ok, non penso che disegnerai meglio di me. Guarda, io ho fatto la sagoma. E adesso devo riempire tutto quanto col colore. Sì, è bello. Mike, ma cosa hai ridi? Oh, perché? Cosa? Io sono caduto, però sono caduto. Adesso ti faccio vedere cosa è un bel pancake. Ok, guarda che bravo che sono. Io ho tutto talento e tu no. Ok, la sagoma è pronta e adesso riempiamola. Ok, qualche dettaglio ed è fatta. Ok, è più bello. Ok, il vostro tempo è finito. Ok, dovete girare il vostro pancake e far vedere cosa è fatto. Mary, cos'è? Lo chiami cagnolino? Va, fai ridere. E mai cosa? Dai, su, gira. Oh, che bravo. Sì, bravissima. Oh, sono molto felice. Io pensavo di vincere. Oh, sì, mille mie. Ciao, carissima. Ciao, Barbie. Che bello che sei. Dai, su, mi piace. Sì. Ok, cominciate. Ma cosa? E Mike è fuori gioco. Che bello. Ok. E io sarò bravissima. Ok, sembra molto carino. Così. Che dici, Mike? Oh, sì, è bello. Ok, forse... Non potrò vincere, però è facile da farlo. E il sorriso è molto carino. E spero che piacerebbe la nonna. Ok, devo girarlo. Sì, che bello. Ok, devo girarlo anch'io. Io ho paura di vedere cosa ho. Dai, su, mi piace di ridere. E che ci stiamo... Dai, smettete là. Dai, fate vedere cosa avete fatto. Vabbè. Hai fatto meglio la volta scorsa. E... Mary? Brava! Ok, sì. Ecco, questo è per te. Spero che... Sì, sì, ad amico. Ok, questo è il tuo nuovo padrona. Che carino che sei. Ok. Ok, ti faccio volare. E ti prendo. Ti va. T'ho preso io. Marina, adesso smettila. Dai, giochiamo assieme. Accendiamo la musica e balliamo assieme a lui. Oh, bello, vero? Sì, molto. Oh, sorellina. Non sai proprio cantare. Ok, guardate che bambola. È strana, però mi piace. Vedo che piace a Mary. Ok. Io non gioco a queste. E io... Sì, voglio fare una bellissima bambola. Ok, devo fare degli occhi grandi e dei capelli. Io penso che sarà il migliore pancake che ho fatto in vita mia. Ok, disegniamo e passiamo... Oh, sì. Oh, sì. Qualcosì. E io posso giocare. Io ho la macchinina. Oh, che buon giocatore. Ok, andiamo. Oh, sì. Mmm, sì. Cosa? La mia macchinina se ne è andata. Bingo! Ok, io ho un'idea. Posso fare una macchina pancake? Oh, non voglio una babola, ma voglio una macchina. Mmm, ok. Che bello. Non guardare. Ok, adesso fate vedere quello che ho fatto. Oh, cosa? Perché? No. Cosa? Il mio pancake è rovinato. Oh, cosa? Mike, cosa ho fatto? Una macchina? Perché è una macchina? Vabbè, però è bello. Mike, tu prendi la bambola LOL. Ok, gioca, piccolino. Che ci faccio? Non lo so. Dammela, per favore. Tu non giochi con le bambole. Io, andiamo a posso fare uno scherzo. Adesso te la do. Però prima le devo rasare. Ecco, guarda. Questo è tuo. Oh, cosa? Ma dove sono io? Perché l'hai fatta? Oh, cosa? Dai, surro di tamburi. E il vostro premio sarà questo hamburger. Il tempo è partito. Ah, che ci fa là? Ok. E adesso posso fare un bel gattino. E questo hamburger sarà mio. Devo vincere perché io ho fame. ok, non resta. Mary, dai su, devi disegnare. Il tempo è partito. Oh, cosa? Devo? Ok. Devo fare il pancake. Ok. Prendo tutto quello che mi serve, tutti i colori. Sì, proprio così è meglio. Ok, faccio un bel pancake. Io ce la farò. Ok. Dai, su, fai vedere quello che hai fatto. Mary, dai su, devi essere più brava. E non si col telefono. Oh, adesso faccio vedere cosa ho fatto. a casa è un capolavoro. Sì, questo è vero. Dai, su, puoi prendere questo e mangiarlo. Buon appetito. Oh, sì, voglio provarlo. È da sbavare. Che buono che... Sì, mi piace questo hamburger. Si vede che l'ha preparato la nonna. Ma perché io non ho vinto? Io, comunque, un giocatore per voi. Però, sì, dovete vincere. Com'è? Volete giocare? Eh, vede che mi piace, ragazzi. Ma io non lo regalo così. Dai, su, cominciate. Il tempo è partito. Va bene. E io prendo... Cosa? Ma perché non si schiaccia? Oh, cavolo. Oh, no. Perché? Oh, no. Cosa? Grazie. Dai, su, ti faccio vedere io. Per disegnare. Faccio un bel pancake. Sì, sono un artista. È bello. Mary, tu come stai? Beh, meglio te. Ok, ti faccio vedere io come si disegna un minion. Ok, faccio la sagoma. E adesso facciamo tutti i dettagli. Un po' d'azzurro e un po' di giallo. Ecco, il giocatelo sarà mio. Il tempo è scaduto. Dai, su, fate vedere. Ecco il mio pancake, non. Il tuo disegno fa ridere. Ok, dai, su. No, non mi piace. Ok, Mary. Oh, che bel lavoro. Congratulazioni. Rendi il tuo premio. Io ho vinto. Vai, vai, minion. Oh, che bello. Sì, è così carino. Mi piace. Dai, su, vai. L'alto e in basso. Mike, dai, su. Guarda cosa va vedere la nonna. Siete pronti? Ecco il vostro giocatelo. Questo dinosauro è così carino. Dai, su, disegnatelo. Il tempo è partito. Oh, sì, io so insegnare i dinosauri. Adesso ne faccio uno molto bello e piacerà a tutti. A me piacciono i dinosauri e tutto quello che è legato a loro. Ok, e riempiamo. Sì, di impasta. Oh, che bello. Mary, dai, su, disegna. Oh, sì, è vero. Da dove devo partire? Forse dal nero. Ok, facciamo così la sagoma e poi disegniamo. Uh, sembra molto carino. Cosa carino? Davvero? Il tempo è scaduto. Fate vedere. Mary. Cosa? Fa paura. Eh, il nostro è carino. Ma è cos'hai? E adesso faccio vedere. Wow, che carino che è. Mi piace. Tu hai vinto. Puoi prendere il premio. Ah, hai visto? Io ho vinto. Sì, tinosauro. Vai. Oh, che bello. Sì, è ancora più carino così. Voglio accrazzarlo. Mary, guarda. Reagisce. Sì, vuole dare del gelato. Dai, su. È triste. Ma non posso che sia triste. Dai, su. Sì, puoi dare da mangiare al tinosauro. Passa. Sì, guarda. A lui piace. Ok, questo è il tappolino. Anzi, una torta tappolino che io ho fatta per voi. Sì, dovete provarla. E adesso disegniamo. Andiamo. Ok. Sì, faccio la testa, sì, del tappolino. Sarà molto bella. Ok, disegniamo le orecchie, la bocca rossa e poi con l'impasto bianco. Ok, io ho fatto un tappolino. Così. E anche io posso fare un... Sì, un bel pancake però con mini. Non ce la faccio. Ok, io devo fare meglio di Micah. Dai, su. Cominciamo così, così. Qui del nero, quel del rosa. Ma perché non ce la faccio? No, io non vincerò. Perché non sono brava? Dai, su. Non piangere. Dai, ti aiuto io. Guarda. Ti faccio una bella mini. Guarda. È il tappolino, però una femminuccia. Penso che piacerà la... Sì, alla nonna ci darà una torta. Così. Fatto. Dai, su. Prendi. Ok, su. Fate vedere quello che avete fatto. Oh, ma che bravo che sei. E Marie? Cavolo. Bello. Brava, brava. Ok, ma chi ha fatto meglio? Non lo so. Ok, do la torta agli entrambi. Su, prendete la torta. Oh, che grande che è. Sì, voglio provarla. Oh, sì, è troppo buona. Nonna, sei bravissima. Ma grazie mille che hai condiviso con me. Sei il miglior fratellino del mondo. No.